Francesca Rossi, 44 anni, imprenditrice e commerciante, vive a Carrara a centro con il marito, due splendidi figli e gli amati animali. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché convinta che si tratti della sola e unica forza politica in grado di cambiare radicalmente l'ossatura di un'amministrazione vecchia e clientelare, mettendo finalmente al centro i cittadini e i loro bisogni. Sogna con De Pasquale Sindaco una città attiva e attraente che faccia finalmente promozione di se stessa per poter recuperare la propria vocazione turistica.